Eccoci in una nuova puntata di Fallout, ma questa volta la cosa è molto più tenebrosa. Siamo nel santuario dei tetto, e oddio! Ne abbiamo visto uno! Sono animali molto cattivi, attenzione! Ti sbranano in tre secondi e tre quarti, ma lui senza paura lo vede spuntare dal nulla! E quattro colpi di fuggile al plasma in testa non li fanno niente! Lo crepa lui, cattivo come non mai! Continua ad uccidere, ma c'è Fux dietro che lo aiuta! E Fux serva a qualcosa! Sono appena passati 45 secondi e la sua vita già sta per diminuire al minimo! Abbiamo assolutamente... Prendici uno stipendio, cosa che ha fatto? È fortuna! Mamma mia! Mio Dio, che disgusto! Cadaveri! Vibramini! Vagabondi della zona contaminata! Uccisi! Da... Detto quello, intanto il nostro caro ragazzo ha appena trovato 10 bamboline e è apparso l'obiettivo sbloccato, l'Xbox. Sì, gioco con le bambole! Che esperienza ragazzi! Gioca con le bambole! Wow! Da vero non me l'aspettiamo! Vorrei sapere dove andare per prendere l'arma! Vendetta si chiama, il vendetta! Il laser gatling! Unico! Beh, esiste la mappa locale ragazzo! Ma nel mentre ci stiamo addentrando sempre di più nel santuario dei Deathclaw! Finora abbiamo visto solo uno! Ma vi assicuro che ce ne saranno molti altri! Questo è il loro covo! Saranno giocando a brisco, saranno facendo un'orgia? Non lo so! Ma sicuramente sono tanti! Mio Dio, mi sto facendo la merda nelle mutande! E che sono anche bianche! Che luoghi ragazzi! Queste sono tipo, non lo so... Le grotte di quella località! Com'è che si chiama? Le grotte di... Sì! Sì! Sì, sì! Le grotte di sì! Bene, bene! Sono proprio loro! Eh, bene sì! Qua tanto prendiamo qualche strumento utile nella sopravvivenza! Tappi! Abbiamo uno steampact per caso prima? Non lo so, sì! Infatti se l'ha scordato di prenderlo! E intanto il buio incombe su di noi! Per fortuna che abbiamo il nostro Pip-Boy 3000! Che illumina fino a un centimetro! Sono persi! Mio Dio! Fox ne ha visto uno! Eccolo qui! Un Deathclaw! L'amico di quello di prima! Mio Dio! Attacca! Attacca ancora! Oddio il Deathclaw è ancora tutto intero! Ci pensa Fox! Non vedo più il Deathclaw! Eccolo! Fox contro Deathclaw! Deathclaw contro Fox! Lo vediamo in faccia! Uno contro uno! E cosa fa? Lo uccide! Che bello! Che bello! Li ha talmente aperto la fronte che c'è là... Ma che si trova l'entrata ora! Che esperienza! Ci stiamo veramente smerdando addosso! E i Deathclaw ci spuntano all'improvviso! Il mostro più feroce di tutto il gioco! Mio Dio! Che esperienza! Ma l'obiettivo di questa missione è trovare il Vendetta! Non dobbiamo perdere tempo! Mi ricordo che il Vendetta si trova in un posticino molto piccolo! In una pozza di acqua contaminata da radiazioni e un cadavere! Ovvio non mancano mai! Bramini! Bramini! Ebbene sì! Qui la batteria sta scaricando! 4 minuti e 10! Non so più andando andando! Che esperienza! Esiste la mappa locale ragazzi! Ce l'ho detto una volta! Ci sono andato! Non me l'ho perso! Mi sono perso! Non è un bel sentire che ti perdi in un santuario di Deathclaw! La morte incombe in un santuario! Ha ragione il nostro Vox! Il nostro Vox ha ragione! Dobbiamo stare attenti a ciò che succede nel presente! Mio Dio! Vediamo una luce! Vediamo una luce! E abbiamo Deathclaw! Mio Dio! Forse sta controllando la porta sul retro! Mio Dio! Apre la sua 3,40 metri di apertura bracciale! Lui... Sta con... Oddio! Ce l'ho toto al culo! Bene! 5 minuti! È finito! Il filmato sta per finire perché è rosso! Sono gli ultimi secondi di questo... Brivido!